Direi che rappresenta per noi quello che di peggio c'è del centralismo, visto che è considerato che la Costituzione Repubblicana è stata scritta dai padri costituenti che sono degli autentici federalisti. Primo per una questione legata alle stesse parole del Presidente del Consiglio Renzi, che voleva tanto la rotomazione e ha proposto un nome della prima 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 Repubblica. Beh, è colui che ha bocciato il referendum per abrogare la legge Fornero. Iniziamo dall'ultimo delle sue malefatte. Pochi italiani capirebbero, sono figure che vanno bene per tutte le stagioni ma non andrebbero bene perché gli italiani vorrebbero un Presidente nel quale si riconoscono e magari riconoscono anche qualche qualità. Sarebbe bello poter votare un Presidente della Repubblica in base a un suo programma elettorale. Pensiamo che le vecchie logiche della politica, basate su giochi nascosti, non vadano più bene al Paese e serva quella trasparenza necessaria che chiedono e vogliono i cittadini. Per il Presidente della Repubblica avevamo delle caratteristiche. La caratteristica doveva essere una persona al di fuori dalla politica e dai partiti, una persona che non fosse usurata negli anni dalla presenza nei vari palazzi, ma una persona che conoscesse bene la politica e gli italiani. È rappresentante di quella corte costituzionale che ha detto no al taglio delle pensioni d'oro, quindi per noi è una persona irricevibile, inaccettabile. È un uomo che non rappresenta quel rinnovamento che Renzi vorrebbe incarnare, è una contraddizione. Mattarella rappresenta il vecchio sistema, quello che ha portato a discussione del sistema partitocratico. Perché Mattarella nasce dai giochi di partito, nasce da un accordo politico molto pesante e quindi riteniamo che subirà condizionamenti altrettanto pesanti. Mattarella, ripeto, come amato, è uno dei giudici che nei giorni scorsi in Corte Costituzionale ha impedito ai cittadini di poter avere la parola sul referendum per la Fornero, per abolire la legge Fornero. Per cui neppure sulla condivisione dell'uomo che dovrebbe essere terzo, l'uomo che dovrebbe essere garante per le istituzioni, per il Parlamento che è sempre più svuotato di fiducia. Perché noi non tolleriamo questi giochetti che tutti noi stiamo vedendo fra Renzi, Berlusconi, che non si capisce nulla senza il rispetto dei cittadini. E fra l'altro è un cattivo segnale anche in prospettiva perché rappresenta un po' la rinascita di quello che è la vecchia democrazia cristiana. Non so come mai se i vecchi comunisti possano votare un democristiano come Mattarella, quando anche un giornale di tanti anni fa diceva noi non moriremo democristiani, è proprio vero mai dire mai. Beh, Mattarella, se parliamo che è un candidato di Renzi, ha la faccia della rottamazione di Renzi. Appunto a proposito di vecchi carampane della politica, Mattarella a mio avviso rappresenta la prima repubblica frutto di inciuci, di accordicchi tra i partiti e fatti sempre al di fuori delle sale parlamentari.